Romano Perticone, difensore del Trapani, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della prossima sfida con lo Spezia e della lotta per la salvezza. Queste le sue dichiarazioni innanzitutto sulla corsa salvezza. Noi sappiamo che per salvarci non dobbiamo guardare le altre, ha detto Perticone, ma solo a noi stessi. Questa è anche una fortuna perché vuol dire che abbiamo uno o due punti in più delle altre. Poi sul match di La Spezia. Lo Spezia è una squadra con individualità forte, ha detto, che però spesso ha dimostrato di essere incostante. Anche ultimamente ha perso una partita in casa contro la Terrana, quindi noi andiamo lì convinti e super motivati. E sarà intanto Daniele Minelli della sezione di Varese, l'arbitro di Spezia Trapani, match valido per la 37esima giornata del campionato di Serie B. In programma domani allo stadio Alberto Picco di La Spezia, il fischietto Lombardo sarà coadiuvato dagli assistenti Alessandro Raparelli di Albano Laziale e Maurizio De Troia di Termoli. Quarto ufficiale Fabio Piscopo di Imperia, osservatore arbitrale Alberto Bianchi di Cuneo.